L'euro si muove senza direzione nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollar usa quota 1,0888 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,0977. In forte contrazione la produzione industriale degli Stati Uniti a marzo Il biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro usa yen quota 107,49, con un peggioramento verso il supporto stimato a 107,16. Negli Stati Uniti, calano dell'8,7%, le vendite al dettaglio su base mensile, più delle attese degli analisti La sterlina recupera nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,2502 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,2606 dollari. Si riducono dello 0,5%, su base mensile, le vendite industriali statunitensi L'euro scende nei confronti dello yen. La coppia scambia 117,04, con il nuovo supporto visto a 116,61. In calo la produzione industriale dell'eurozona a febbraio, che ha registrato un decremento annuale dell'1,9%. Il dato è migliore delle attese del mercato Grazie a tutti.